E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto dal titolo voglio spiegarvi come completare l'ultimo step del ride Kripta di Pietrafonda e sconfiggere quindi il boss Tanix Renato. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo iniziamo. Come al solito se avete dubbi o problemi di qualsiasi tipo riguardo gli step precedenti trovate tutte le guide sul canale. Andiamo ora a vedere come funziona questa boss battle partendo dall'analisi della mappa. Questa ha una forma pressoché circolare al cui centro vedremo Tanix e il cui perimetro è diviso in tre zone che noi abbiamo chiamato bianco, nero e rosso. Come per lo step precedente l'obiettivo sarà depositare le cellie di energia all'interno delle casse che stavolta però saranno due per lato. Per comodità le abbiamo quindi suddivise in bianco-destra, bianco-sinistra, nero-destra, nero-sinistra, rosso-destra e rosso-sinistra. Per depositare le celle dovremo utilizzare i soliti tre potenziamenti, all'eventualità trasferibili determinati posti uno per lato. Andiamo però per ordine e vediamo quale sarà il compito di ogni potenziamento. Innanzitutto questi saranno ottenibili come al solito dai vandali hacker che sponeranno stavolta in un ordine ben preciso. L'operatore sarà bianco, lo scanner sarà nero e il soppressore a rosso. Prima di iniziare quindi dividetevi in tre team da due e in base a chi deve prendere i potenziamenti distribuitevi ognuno da un lato. Il primo potenziamento che ci servirà sarà lo scanner che vi ricordo sponerà nero. Come per lo step precedente il suo compito sarà quello di individuare le due casse in cui andranno depositate le celle. Non appena le avrà comunicate agli altri dovrà dedicarsi alla pulizia. Un metodo che seppur stupido si è rivelato efficace per ricordare le casse è stato utilizzare le squadre di calcio. Se quindi le casse chiamate erano entrambi a destra o entrambi a sinistra ma a due colori diversi chiamavamo direttamente la squadra di quei colori e il lato della cassa. Per esempio bianco destra e nero destra sarebbe stato Juve destra oppure rosso sinistra e nero sinistra era Milan sinistra. Mi raccomando la regola generale è quella di pulire se non si sta facendo altro. Mentre quindi lo scanner chiama le casse gli altri dovranno pulire e appena le avrà chiamate lui stesso tornerà a pulire. Individuate le casse Tanix si sposterà ad uno dei tre lati della mappa e inizierà un'animazione rendendo vulnerabili i quattro motori del suo veicolo. Non appena succederà avremo poco tempo per distruggere due di questi motori che ci dropperanno le celle. Mentre però spareremo al boss questo ci scaglierà contro dei fasci di luce viola. E' quindi molto importante rimanere sempre in movimento durante questa fase perché dopo poco i fasci esploderanno uccidendo chiunque fosse al suo interno. Ottenuti quindi le due celle dovremmo portarle nelle casse indicate allo scanner. A differenza del pre-boss però la mappa è molto più grande e lo stack delle radiazioni non basterà per tutto il tragitto. Ai due guardiani che prenderanno le celle quindi dovranno aggiungersi il terzo senza buff e lo scanner che al momento non starà usando il suo potenziamento. Dividendosi in coppie quindi dovranno fare una staffetta fino alle casse indicate scambiandosi la cella a metà percorso per non morire dalle radiazioni. Durante questa fase i portatori delle celle verranno bloccati a turno da una sfera rossa circondata da punti viola. Il compito dell'operatore sarà quello di liberare i compagni da questa sfera sparando ad uno dei punti viola. Per ogni giro compariranno due sfere intorno ai portatori che bloccheranno anche chiunque gli stia accanto. Tuttavia è possibile che venga bloccato due volte lo stesso portatore come che invece siano diversi. Il mio consiglio è quindi quello di trovare un punto alto con una buona visibilità non appena i motori saranno esplosi in modo da essere pronti a sbloccare le sfere. Per distruggerle basterà anche un solo colpo, l'importante è che venga sparato ai punti viola che sono gli unici vulnerabili. In tutto ciò il compito del soppressore sarà lo stesso del pre-boss, dovrà quindi andare sotto alle sfere fluttuanti per sparargli, stannarlo alla terza sfera e permettere ai portatori di depositare le celle. L'unica differenza è che le sfere nella mappa sono 9, divise 3 per lato. Ogni volta quindi il soppressore dovrà stare attento a controllare da quale lato il boss si sposterà per stannarlo utilizzando le sfere dello stesso lato. Ripetuto questo procedimento per due volte arriverà la fase di danno, prima però vi avverto che casualmente i potenziamenti si disattiveranno e come per il pre-boss dovremo quindi depositarli al terminale e passarli a qualcun altro. Noi ci siamo organizzati a coppie, quindi avendo un potenziamento per lato nel caso si fosse disattivato lo avrebbe preso il compagno del nostro stesso lato e ci saremmo quindi invertiti di ruolo. L'importante sarà comunque tenere il terminale sempre vuoto in modo da poter cambiare velocemente all'evenienza, in particolare se a bloccarsi all'operatore, che spesso si troverà costretto a dover sbloccare qualcuno in una sfera non avendo il potenziamento. In questo caso dovrà trasferirlo il più velocemente possibile perché vi ricordo che nel frattempo lo stack della radiazione del portatore aumenterà, uccidendolo non appena raggiungerà il x10. Quindi come ho già detto ripetuto il giro delle celle per due volte arriverà la fase di danno. Il boss si sposterà al centro della mappa e verrà circondato da un'ora blu al di fuori della quale non potremo fargli danno. Stando quindi attenti alle lamiere che ruotano intorno a lui dovremmo entrare senza però avvicinarci troppo al centro per evitare di essere uccisi. Stando quindi alla giusta distanza da Tanix e delle lamiere ruotanti gli faremo danno con qualunque cosa ci capiti in mano. Dopo qualche secondo lui scatenerà un'onda d'urto che ci spingerà fuori dalla bolla azzurra. Dovremmo quindi rientrare e continuare con il danno finché Tanix non diventerà immune per poi ricominciare con la storia delle celle radioattive. In totale abbiamo un massimo di 3 fasi di danno per raggiungere l'ultima tacca di vita. Una volta rimasta solo quella il boss inizierà a teletrasportarsi da un lato all'altro della mappa mentre noi dovremmo continuare a danneggiarlo finché non sarà definitivamente morto. E avremo finalmente completato il raid cripta di pietrafonda. Facciamo quindi un riassunto veloce. Ci dividiamo due per lato, ad ogni lato spona un vandalo hacker e ognuno prende il suo potenziamento. Mentre tutti puliscono lo scanner individua e comunica le casse per poi tornare a pulire. Il boss si sposta da un lato e scopre i motori. Rimanendo sempre in movimento per evitare i fasci luminosi distruggiamo due motori e i portatori prendono le celle. Mentre le portano le casse chiamate dallo scanner facendo una staffetta a coppie l'operatore dovrà essere pronto per distruggere le due bolle. Mentre il soppressore da sotto alle sfere del lato dove è andato il boss gli sparerà per stannarlo e permettere ai portatori di depositare le celle. Stando attenti e potenzialmente disattivati si ripete questo procedimento per due volte per poi fare danno al boss. Questo si sposta al centro e fa una bolla azzurra. Entriamo nella bolla stando attenti a non essere né troppo interni né troppo esterni e gli spariamo con qualsiasi cosa. Lui ci butta fuori, noi rientriamo e continuiamo a sparare finché non diventa immune. Ripetendo il giro per massimo tre volte quando arriva l'ultima tacca di vita continuiamo a far danno finché non muore. Con la differenza che il boss si sposterà di continuo. A questo punto il raid sarà completato. Quindi ragazzi io spero che il video sia stato utile, come al solito se avete qualsiasi dubbio non esitate a chiedere nei commenti. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E da tutto questo noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.